Martina Colombari, ex Miss Italia e madre di Achille Costacurta, ha deciso di rompere il silenzio dopo le ultime notizie riguardanti suo figlio. Achille, figlio della modella e di Billy Costacurta, si è trasferito in Spagna per affrontare un percorso di disintossicazione da alcol e droga. Dopo un lungo periodo lontano dai social, ha pubblicato una storia su Instagram in cui annunciava di essere da cinque giorni sobrio. Questa notizia ha scatenato una serie di critiche nei confronti di Martina Colombari, accusata di aver permesso al figlio di arrivare a quel punto. Tuttavia, la modella ha deciso di rispondere a tono alle critiche ricevute, pubblicando una foto sui social con una didascalia che invita a non giudicare e a non cadere negli stereotipi limitanti. Nonostante le difficoltà che sta affrontando, Martina Colombari continua a prendersi cura di se stessa e a incantare i suoi follower con la sua bellezza e la sua forza. Nel frattempo, Achille sembra aver intrapreso la strada giusta verso la guarigione, supportato dalla sua famiglia che non lo ha mai abbandonato. La famiglia si è riunita a Milano per trascorrere del tempo insieme e sostenersi reciprocamente. Martina Colombari, pur amante della privacy e restia a parlare della sua vita privata, ha deciso di rompere il silenzio per difendere suo figlio e per ribadire il suo sostegno incondizionato.